Piazza Affari chiude il leggero calo con il Fuzzi Miba a meno 0,32%, l'Oshera a meno 0,36%, spread BTP Bund in area 144 punti base, crolla Luxottica a meno 9,23%, male anche STM a meno 5,37%, Campari a meno 3,39% e Iox a meno 3,25%, positiva invece Mediolanum a più 3,3%, Pirelli a più 2,57% e Autogrill a più 2,39%. Tra l'europea è la migliore è Londra, più 0,41%, seguita dall'Ibex di Madrid che si ferma a più 0,36%, Francoforte segna più 0,27% e Parigi più 0,12%.